La dipendenza, se è una dipendenza negativa, è una gran fregatura, perché tu sei avvolto dentro, io ti devo a tutti i costi provare a liberare, quindi tutti i percorsi terapeutici, a che cosa dovrebbero tenere? Non a punire, ma a liberare, è vero? Quanti giovani sono messi dentro nel nostro carcere di Bologna, è vero? Che invece dovrebbero essere presi per mano in un'altra maniera, perché così non solo non serve a niente, ma anzi il rischio è di un precipitare ancora di più nella dipendenza. Però questo porta anche all'ipotesi di una dipendenza positiva, è vero? Perché appunto ero al mare, in un posto bellissimo, e ci si rendeva conto che l'onda era piuttosto alta. Io non so che cosa mi sia capitato, ma a un certo punto ho avuto la netta percezione che andavo sotto, che non avevo la possibilità, però c'era lì un amico, Giuseppe, e ho detto, Giuseppe, non ce la faccio. Lui ha teso la mano e mi ha tirato fuori, però in quel momento io ho avvertito come la mia vita dipendesse da quella mano, è vero? E quindi in qualche modo ho conosciuto in quel momento, diciamo in termini molto concreti, anche se molto episodici, è il valore di una dipendenza positiva. È vero? E quindi come c'è un male che mi domina, altrettanto spero che ci possa essere sempre una realtà positiva, è vero, alla quale collegarmi in modo forte. Anche la parola dipendenza bisogna prenderla con cautela, perché ci sono dipendenze negative che sono un principio di male e ci sono però dipendenze positive che sono la mia salvezza. E io penso che noi siamo sempre il risultato di un prevalere tra potenze positive e potenze negative. Ecco, volevo dire che tutto questo ha poi una ricaduta molto importante su quello che noi consideriamo globalmente l'etica, il problema morale, perché qui il discorso adesso si espone a qualche rischio di scandalo. Malgrado tutto noi siamo legati in maniera troppo stretta e soffocante a una specie di oggettivismo della morale, dell'etica, mentre invece bisogna rendersi conto che soprattutto nella prospettiva che cerchiamo di portare avanti e di adesso mettere in luce, l'etica è sempre relativa al dono, quindi in realtà tu ti riempi di obblighi e di responsabilità proprio se e perché sei riempito di doni. Quindi alla concezione del dono tutto ho ricevuto dalla mia vita e a questo si aggancia la tematica della responsabilità, cioè è il dono che ti responsabilizza. Se tu hai ricevuto niente la tua responsabilità è molto minore e sarà crudeltà imperversare su di te che hai ricevuto niente e da te si pretende quello che si pretende da ogni altra persona più fortunata. Al rovescio tutto quello che di bene tu hai ricevuto ti costituisce in una responsabilità crescente, quindi più cresce il dono più cresce la responsabilità. È vero? È sbagliato quindi accusare questa ipotesi come una specie di bonismo? Non è vero, se lo è stiamo sbagliando qualche cosa. È vero? Nel senso che non si può per esempio ampliare lo spazio dei diritti che non sia appunto, a me non piace usare la parola doveri, ma che non sia l'orizzonte della responsabilità. È vero? Cioè tu hai ricevuto un dono, questo però ti impegna, è vero? Ha una concezione nuova e quindi ha un agire nuovo nella tua vita. Quindi diventa una morale altissima, è vero? che vede in modo fortissimo la responsabilità delle persone proporzionatamente al dono. Quindi in realtà non c'è dubbio, la morale non può essere considerata assoluta. Può essere considerata assoluta nei suoi termini assoluti, cioè quindi il bene, il male, ma nella esperienza concreta delle persone è sempre relativa. Tant'è che in modo esigente è relativa anche per noi, perché rispetto a dieci anni fa, tante cose sono entrate nel nostro pensiero, è vero, nel nostro sentimento, nelle nostre relazioni. Questo ha cresciuto immensamente la nostra responsabilità. E quindi un comportamento che andava bene dieci anni fa, oggi non va più bene. È vero? C'è un metro, grazie a Dio, che è quello della coscienza, insomma, che non funziona sempre benissimo, ma un po' funziona, perché io mi rendo conto che ho lasciato una sproporzione tra quello che ho ricevuto e quello che in qualche modo questo stesso dono mi impegna a restituire. E quindi la nostra è una morale della restituzione. È chiaro che si pone quindi in un orizzonte molto, molto luminoso. Hai molto ricevuto e adesso devi molto restituire. Questo ha delle inflessioni anche molto forti, per esempio anche sul piano pedagogico, perché noi tendiamo implacabilmente a una pedagogia del ricatto, che sostanzialmente suona col dire se non studi bocci, insomma, no? Se non ti tieni in linea perdi la gara. È vero? E quindi in qualche modo è un'etica dell'affanno, della paura, sempre per conquistare un premio, e qui con tutto il rischio poi della violenza che tutto questo porta con sé. Qual è l'altra strada? L'altra strada è l'etica della responsabilità. Siccome hai ricevuto molto devi rendere. E quindi non è se non studi bocci, ma è con tutto quello che hai ricevuto perché non fai fiorire quello che hai ricevuto? E ti è stato dato perché la tua vita sia più bella? Perché lo chiudi nel cassetto quello che hai ricevuto? Tiralo fuori. Tanto che molto spesso anche nella parabola evangelica quello a cui viene affidato cinque talenti, è vero, dice che va a impiegarli. Ma il testo molto più raffinato dice che è andato a agire nei talenti. Cioè nel dono che abbiamo ricevuto si tratta di agire, no? Di muoversi dentro al dono ricevuto proprio per farlo fiorire. E quindi da qui è in qualche modo certo la responsabilità anche fino alla colpa. Quindi qual è la tua responsabilità morale? Qual è la tua colpa? Quello di aver lasciato deperire, di aver sotterrato per terra un regalo che avevi ricevuto perché potesse essere fecondità dentro di te e quindi fecondità anche per altri. La concezione importante è quella di un popolo, è vero che ricevendo doni diventa un popolo di tutti i responsabili, no? È l'obiettivo, no? Deve essere quello di una società viva dove ognuno ha molto ricevuto e molto dà e esprime il suo dono con delle particolarità, delle diversità, delle caratteristiche, no? Che sono importantissime perché mi occorre anche la tua competenza, mi occorre anche la tua parte. Noi abbiamo fatto in città delle esperienze interessanti, insomma, no? Di provare a mettersi intorno a un tavolo, essendo molto diversi, intorno a problemi comuni a tutti e di vedere come tutti erano preziosissimi per la comprensione e l'affrontamento di quel problema, di quella prospettiva, è vero? Perché tutti hanno qualche cosa da dare, no? E questo oggi è un po' mortificato, mi sembra, è vero? Siccome ti danno un libretto di istruzione, tu applichi il libretto di istruzione e quindi rischia di mancare l'inventiva, è vero? E una volta, insomma, come veniva l'uva di quel contadino, nessuno la faceva venire buona come lui, è vero? E questo si traduceva magari in un certo anche nascondimento dei brevetti per cui uno non comunicava la ricetta, no? Come quella bravissima cuoca che alla fine introduceva un piccolo errore quando dava la sua ricetta in maniera che nessuno facesse le tagliatelle buone come lei, no? Invece, certo, in una società seria e matura, questo scambio di doni certamente è un motivo di grande ricchezza, no? Di grande possibilità. Invece le caste, le strutture, le gerarchie sono pericolose perché tendono a immobilizzare le persone, tendono cioè a tenere un ordine che però spesso è un ordine imperiale e quindi cimiteriale. Tutto sta in pace perché tutto sta fermo. La vera pace invece è quella della comunione delle diversità, è quello dell'incontro dei diversi, è quello del gradimento della diversità colta come un contributo, insomma, no? In questi anni ho visto per esempio rispetto all'arrivo per esempio di popolazioni stranieri nella nostra terra, cosa alla quale non siamo abituati, dice è un gran problema. È certo che è un gran problema perché è una grande opportunità, no? Si dimentica sempre che la genialità per esempio di una terra come la terra italiana è stata data secolarmente e nei millenni dal fatto che essendo il più bel posto del mondo qui sono arrivati tutti, no? Quindi tutti hanno tentato di mettere i piedi nel Mediterraneo e di gustare la fecondità dei nostri boschi e delle nostre pianure e quindi noi siamo una popolazione, è vero, assolutamente ibrida e meticcia è però molto interessante per questo. Tu arrivi in mezzo alla Sicilia e trovi dei biondo-rossi, è vero che ti ricordano che c'erano anche i tedeschi lì, insomma, oltre gli arabi. E questa è la ricchezza. Oggi questo si fa fatica e noi tendiamo a preferire invece la pace del cimitero, mentre invece la pace è dei vivi, è vero, è dei vivi, anzi è dei risorti. È vero perché può essere così potente la pace, è vero, da far risorgere anche situazioni che sembravano morte e anche personalità che sembravano spente, no? Tante cose ci insegnano, sia tanti terapeuti che anche uomini dello spirito, è vero, tante donne appassionate ci fanno vedere che c'è la risurrezione dei morti. È vero, dal punto di vista della fede non è tanto semplice la cosa, ma come esperienza concreta della vita, questo invece si vede molto, insomma. Dove c'è una forte passione c'è anche una grande capacità di restituzione alla vita.